Il mio intervento genererà dubbi invece di generare certezze, perché prima di tutto bisogna capire esattamente che cosa si intende per Welfare. Sono riduce da uno seminario, questo seminario che poi racconterò nell'ultima parte della mia presentazione, proprio su Welfare, l'abbiamo fatta insieme a un esperto, il professor Treu, una società di tipo più fiscale contributivo che è Willis, per le assicurazioni, e un caso eccellente che è Lillilli, una società farmaceutica di Firenze. E ovviamente abbiamo raccontato un modello, alla fine che cos'è il modello di Welfare? Se guardiamo nella storia i romani costruivano le terme e anche direi che è una manifestazione molto forte di Welfare sociale. Il Welfare normalmente è un concetto che nasce dall'applicazione di un supporto sociale, educativo, culturale ai cittadini da parte di uno Stato. Poi nella storia direi che abbiamo invece cristallizzato alcune figure proprio imprenditoriali, che definirei quasi dei mecenati, che ci hanno dato un'altra idea di Welfare, cioè l'imprenditore illuminato, il mecenate. Chi di noi non ha studiato, ha avuto notizie dello stile di gestione di Adriano Olivetti, che è diventato un paradigma, un prototipo nel mondo del Welfare. Venendo a tempi più recenti, Michele Ferrero, fondatore della Ferrero, il prodotto italiano forse più noto al mondo, ancora adesso gli operai lo chiamano per nome, lui quando c'è stata un'inondazione ad Alba è intervenuto personalmente per aiutare i suoi collaboratori ad aggiustare le case, è una forma di vicinanza e di sostegno sociale. Allora faccio un passo indietro e dico, ma io perché vado al lavoro? I motivi fondamentalmente sono due, c'è un contratto più o meno collettivo, personale, ovviamente saranno delle basi collettive, poi magari delle regole personali, individuali e questo mi dà modo di ricevere un salario, un cambio del mio tempo dedicato al lavoro e questo mi dà modo di realizzare alcune cose. Poi c'è un contratto psicologico che tutti noi credo in un modo o nell'altro viviamo, ci sono mattine in cui hai voglia di andare a lavorare, mattine in cui magari vorresti stare a letto perché dici non ce la faccio più, il mio capo, i miei colleghi, l'ambiente e tutto il resto. Per cui è molto difficile identificare con una sola parola, a meno che non si vada proprio nello stereotipo, cos'è il sistema, lo strumento welfare. Perché io lavoro dal 1986, ho vissuto vari momenti storici della nostra nazione e anche vari momenti organizzativi di aziende in cui ho lavorato. Mi definisco in maniera molto, diciamo, ambiziosa un ostetrico di organizzazioni perché mi è sempre piaciuto di più dare vita a organizzazioni, cioè fare start-up, creare nuove aziende, partecipare a imprese che hanno costruito piuttosto che aziende che hanno ridotto. Se mi chiedessero oggi chiudi uno stabilimento, licenze a mille persone, francamente avrei molte difficoltà. Credo che sia giusto come nei reparti degli ospedali che sono gli specialisti, anche nel nostro mestiere di responsabili, diciamo, di risorse umane, personale. Io ho definito il mio titolo sviluppo persone e organizzazione perché volevo trasmettere questa filosofia, sviluppo delle persone. E quindi dico, è ovvio che nei momenti storici che ho vissuto nella mia vita ci sono momenti, e penso che ci sia una contemporaneità anche in quello che dico, di aziende che crescono e aziende che invece in qualche modo stagnano e aziende che soffrono. Allora qual è il welfare percepito dai dipendenti nelle tre diverse società? Allora io nelle aziende dove ho fatto lo start-up, le persone lavoravano 15 ore al giorno, non ha mai chiesto un euro in più per lo straordinario e non gliene fregava niente di mangiare in menso o non mangiare in menso, mangiavano i panini ed erano felici. Quindi, wow, la mia politica di welfare era perfetta. Lo start-up, le persone lavoravano tanto, produttività ai massimi, costo di welfare zero, un panino ogni tanto e una pacca sulla spalla. Mi direbbero, un imprenditore, wow, questa è la soluzione perfetta. Ma la pubblica amministrazione, prima vedevo Daniele Migliozzi, diceva, cavolo, è un posto di lavoro sicuro, la sicurezza, tra virgolette, è frustrante. Allora cosa succede? Che la quotidianità e la routine diventano, invece di essere un vantaggio, diventano un peso. Provate a chiedere agli operai della ILVA come sarebbe la sicurezza o come sarebbe la sicurezza per un ex miniatore del Sulcis. Voglio dire, sarebbero, credo, relazioni molto diverse rispetto al welfare, no? Allora, da un lato dico, devo guardare la mia azienda, vi racconterò che cos'è l'aeroporto, perché è ovvio che il mio intervento può essere solo nell'area che posso influenzare, però c'è da fare delle riflessioni su welfare, perché non è che il welfare esiste come realtà assoluta, va relativizzato rispetto al momento organizzativo e al tipo di struttura che si ha davanti. Non sono un sociologo, premetto, sono lavorato in giusprudenza, sono arrivato nel personale attraverso legale e relazioni sindacali, però mi piace molto lavorare con le persone e amo le persone e la tecnologia, l'ho scritto anche nel mio profiletto, perché penso che questo connubio sarebbe un modo molto favorevole per vivere più felici. Però quello che vedo in una visione pragmatica è che nonostante ci siano posti di lavoro sicuri, come posso dire quello della pubblica amministrazione o come quello dell'aeroporto. L'aeroporto è una società a partecipazione comunque pubblica, i principali azionisti sono canale di commercio, comune, provincia, regione, non esiste una vera e propria concorrenza locale, perché ogni città ha un aeroporto, poi è ovvio che ci sono politiche scriteriate di pianificazione dei trasporti, è un'altra cosa, per cui abbiamo a 50 km un aeroporto che chiude, oggi pomeriggio sarò proprio a una riunione in regione dove il problema è la ricollocazione dei lavoratori dell'aeroporto di Forlì. Secondo voi parlare dell'Uelfare a questi 45, 50, 60 lavoratori coinvolti ha un senso? No, non ha un senso, perché loro hanno perso il bene più grande che è il aeroporto di lavoro. Ma nello stesso tempo sono anche i direttori di sviluppo e persone dell'aeroporto di Bologna, dove ci sono persone che vivono un certo momento storico di crescita dei passeggeri, più o meno il lavoro, anzi il lavoro è sicuramente cresciuto, ma più o meno i budget sono quelli, i risultati economici sono un po' più magri e quindi ci troviamo a gestire una situazione un po' più complicata. Avanti come va? Si è addormentato? Grazie. Allora, come si fa a parlare di produttività quando si lavora di più? Noi siamo passati da 4 milioni a 6 milioni di passeggeri, quindi molto più lavoro, molta più attività nell'aeroporto, ma risultati economici più magri, cioè alla fine l'ebit effettivo è più basso rispetto a quello di tre anni fa, perché i costi fissi più o meno sono aumentati, il costo del lavoro comunque ha una sua dinamica che non si ferma, i budget sono comunque più limitati, anche gli investimenti finanziari che noi concentriamo molto nelle infrastrutture, sapete che se siete dei passeggeri state soffrendo tantissimo per i continui cantieri che abbiamo messo in piedi in questi anni, questo è perché vogliamo alla fine avere un aeroporto più grande, perché dia più disponibilità di spazio. Però i budget gestionali che ci provengono dai ricavi naturali, quelli degli aerei e dei negozi, sono sempre di meno. Si calcola che circa il 90% degli aeroporti in Europa non starebbe in piedi se non avessi il commerciale, cioè se non avessi i parcheggi, i negozi e i barchi in cui si bevono i caffè. Gli aerei da soli non bastano a tenere in piedi un aeroporto. Detto questo vi fa capire quanto sia difficile comunque gestire una società in equilibrio in Europa e nel mondo. In Italia ci sono solo due aeroporti che crescono di traffico, sono Bologna e Venezia, tutti gli altri hanno un traffico in diminuzione. Cosa vuol dire? Che c'è una crisi economica che è il mare dentro il quale questa nostra barchetta e dei dipendenti dell'aeroporto più o meno galleggiano. Secondo me, e qua ripeto non sono un sociologo, ma in una visione pragmatica, quello che ci sta intorno condiziona fortissimamente cosa sentiamo noi come welfare. Io personalmente percepisco, nonostante io sono un ottimista e non ho assolutamente percorso da ansia personale, sono un soggetto individualmente felice, però c'è un'ansia collettiva fortissima. c'è questo senso di mancanza dell'opportunità, di impotenza, di immobilismo, di desiderio di fuga. Quante persone dicono, ah basta, me ne vado, vado via, i giovani devono andare via, poi vanno concretamente via. Molti amici di mia figlia che fanno l'università, a fine dell'università sono andati in Australia a fare per tre mesi i lavoratori della campagna. In Italia secondo me non l'avrebbero mai fatto, perché quelli che raccomano i pomodori sono africani, allora perché vado in Australia? Perché cambiando la scenografia, sono più felice? Io non sono un psicologo, probabilmente gli psicologi capiranno meglio questo mio commento, ma effettivamente quando ho sentito prima Maria Rita Mucci che dice il benessere nasce da stare bene come individuo, è ovvio che stare bene come individuo quando ci sono bombardamenti mediatici quotidiani di crisi, assassini, morti, terrorismo, pericolo, ansia, non ti fa star bene neanche se sei al comune di Modena o all'aeroporto di Bologna che non ha problemi concreti e reali da superare nella quotidianità, diciamo così, vive e ha una sua storia. Sono anche un volontario dell'Associazione Italiana delle Leucemie, ho avuto la, non so mai definirla se è sfortuna, perché da un lato lo è, ma anche l'opportunità di essere un malato, nel senso che è chiaro che nessuno vuole pagare il biglietto di essere malato in leucemia, nessuno lo vuole fare, però il fatto di essere stato per 3-4 anni nei reparti di ematologia, di aver vissuto le problematiche dei trappianti, di aver vissuto con una signora seduta vicino che ti diceva guarda che sei in pericolo, mi dà una visione diversa della vita, infatti quando vado alle riunioni, io sono anche volontario dell'AIL, quando vado alle riunioni dell'AIL, incontro persone straordinariamente felici, pieni di ottimismo, che vogliono fare le cose, che non si lamentano se fa freddo a Natale quando vendono le stelle di Natale e non si lamentano se fa caldo quando c'è la Pasqua, devono vendere le uova di Pasqua. Mentre in ufficio torno e all'aeroporto trovo persone che dicono, eh ma qua piove, fa freddo, devi dare un posto dove stare, eh ma qui eh. Sapete che l'aeroporto sta aperto 24 su 24, i turni sono una delle caratteristiche di maggior logorio della, proprio del corpo. Allora, mettere tempi più lunghi per la pensione, se è una logica finanziaria, da un punto di vista della motivazione dell'engagement di persone di 50, 55 anni che da 30 anni fanno i turni, è una grande fonte di frustrazione e di stanchezza. Allora, come si fa a parlare di produttività quando invece di puntare su giovani forti e pieni di desiderio di fare le cose, si deve puntare su una popolazione che a turnover zero praticamente invecchia tutti gli anni e senza possibilità di inserire persone nuove, diventa più vecchia e deve fare lo stesso lavoro di prima facendo i turni di notte. Ah, qua bisogna avere la bacchetta magica. Allora io queste domande dal macro me le faccio al micro, dico, cosa posso fare? Aggiungiamoci che una situazione di questo genere con meno soldi, budget limitati e quindi anche un po' meno di disponibilità di dare premi, premi di produzione, premi di risultato, premi di tutti i geni, diventa una fonte di conflittualità e non mi riferisco alla conflittualità puramente sociale, diciamo con le relazioni sindacali, sindacati eccetera. È una conflittualità che definirei micro conflittualità. Sono sicuro che anche nelle vostre aziende succede lo stesso. Se uno la mattina alle 6 della domenica telefona e dice non mi sono sentito tanto bene, questo qui può essere davvero uno che sta male o un indice di micro conflittualità. Io se fuori piove e la domenica mattina devo venire a lavorare, devo fare un turno, sto a casa, mi paga lo stesso l'Inps o l'azienda e non faccio lo sforzo in più, non vado a lavorare per il mio collega, non mi interessa di creare un problema. Allora in una situazione di questo genere, la conflittualità micro secondo me è ancora più pericolosa la conflittualità macro che ha un volto, ha delle logiche, ha degli terreni di negoziazione e si vede, soprattutto è rappresentata. La conflittualità micro non si vede e quindi aumenta leggermente l'indice di assenteismo, aumenta l'utilizzo delle 104 che è un diritto meraviglioso ma che probabilmente a volte è utilizzata anche in modo così un po' strumentale, è più difficile chiedere le persone di fare straordinario, aumentano le richieste micro che sono veramente quelle che dici ma qual è il problema, no perché non voglio lavorare qua, i turni giornalieri diventano, i turni notturni sono quelli più difficili da assegnare e quindi anche volendo essere equi ci sono persone che scappano ai turni e cambiano i turni, cercano di di fare di tutto per non fare i turni, aggiungiamoci che intorno il contesto non aiuta tantissimo, c'è una riduzione obiettiva del potere d'acquisto e non è che ce lo dobbiamo raccontare, quando guardiamo le nostre buste paga ci rendiamo conto che l'euro ci ha premiato da una parte, ci ha salvato per tanti versi ma ci ha anche fatto un po' male, ogni tanto io sono vecchio forse in questo ma faccio i conti di quanto mi consta le cose in lire e mi viene male, mi viene veramente male e poi c'è una necessità anche veramente obiettiva di conciliare meglio la vita privata e il lavoro, una volta le care mamme, adesso non è che voglio fare un nostalgico, si occupavano dei bambini, oggi le mamme lavoratrici il 30 di giugno le scuole finiscono e si trovano con i bambini che non sanno dove gestirli, o uno ha i nonni superattivi, ma non è che si può costruire una società sulla base di un volontariato familiare, oppure si deve, è costretta a fidare i propri bambini a babysitter che hanno un costo e ovviamente non sono mai in regola per cui è anche un modo ingiusto di pagare le persone, di aprire un mercato nero, oppure le famose settimane estive nei campi solari, queste cose qua, che comunque non coprono il periodo dell'estate completamente, allora le aziende si trovano giustamente, le mamme che nel periodo estivo prendono i congedi parentali fino a quando i bambini hanno 8-9 anni e si creano delle problematiche organizzative, noi abbiamo una regola, quando una persona viene controllata nei varchi di sicurezza, se è una donna deve essere tastato da una donna, se è un uomo deve essere tastato da un uomo, quindi noi abbiamo il 50% di personale maschile, femminile. D'estate c'è la fuga naturale, giustificatissima, legittima, delle signore che devono tenere i bambini, una società organizzata in questo modo non facilita la produttività del paese, assolutamente, diventa un ostacolo. I servizi sociali sono decisamente più cari, se uno vuole affidarsi a una badanti in regola, spende il 40% in più, allora cosa succede? Che le badanti sono tutte in nero e anche lì si crea tutta una serie di situazioni che non sono fisiologiche per un paese che vuole crescere o avere una maggiore produttività. Aggiungiamo un dato molto positivo per me che ho superato i 50 anni, che l'invecchiamento della popolazione è costante e quindi i tempi di assistenza dei propri genitori diventano sempre più lunghi. Grazie al cielo si vive fino a 80 anni e questo vivere fino a 80 anni significa che i figli restituiscono per lunghi anni la cura che a loro volta hanno ricevuto quando erano bambini. Allora cosa succede? Che bisogna veramente mettersi in questo grosso puzzle e cercare di mettere a posto i pezzettini. Non è facilissimo ma qualcosa si può fare. Esistono delle opportunità, anche queste sono veramente fatte male, devo dire la verità che le ho analizzate nel dettaglio con i miei consulenti, ho guardato anche i sistemi in vigore. Alcune opportunità economiche o fiscali, quindi posso pagarti la babysitter piuttosto che posso pagare i campi solari o i libri eccetera, sono regolamentate in un modo per cui devono essere iniziative unilaterali, cioè se sono liberalità aziendali sono esenti da tasso e contributi, se invece sono contenute in un accordo sono parte della retribuzione. È veramente un archetipo proprio sbagliato di legislazione ma questa è e quindi dobbiamo stare a questi fatti. Le opportunità sono amplissime perché effettivamente tenendo conto anche di come è fatta una popolazione non c'è una soluzione che può essere individuata solo per le famiglie. Uno entra che ha 19-20 anni e ha voglia di divertirsi, poi magari o si sposa o ha figli e quindi il suo problema diventa pagare le spese magari del babysitter, poi cresce e i figli vanno all'università e quindi vorrebbe sostenere le scuole superiori eccetera, però c'è anche i genitori che diventano più vecchi e quindi ha bisogno di un supporto per la terza età. Però sono persone che decidono di non avere una famiglia o non hanno una famiglia e loro dicono beh cosa facciamo? L'assistenza welfare solo alle famiglie e a chi ha bambini? Allora bisogna pensare a tutta quella parte di entertainment, di cultura, di accesso alla cultura, accesso ai viaggi che la normativa fiscale consente. Quindi le soluzioni possono essere un ventaglio veramente molto ampio e quello che è interessante è che esiste, comincia finalmente ad esistere un modello culturale che in qualche modo è più orientato ad avere una inclinazione per un equilibrio fra la vita private e il lavoro, quindi verso anche l'utilizzo del proprio tempo libero, ne abbiamo molto di più perché viviamo di più e i tempi di lavoro sono in qualche modo anche ridotti e quindi abbiamo un modello che ci aiuta a far facilmente entrare nell'abitudine dei nostri collaboratori l'idea che invece di dare 50 euro di aumento ti posso dare l'accesso a una spa piuttosto che due giorni di weekend a Parigi o rimborsarti il costo dei libri scolastici dei tuoi figli. Tutto questo comincia a essere accettato. Ovviamente nella pirata di Maslow siamo già molto in alto, non stiamo ragionando sui lavoratori del sulciso o l'ilva di Saronno che si accontanterebbero di un posto al comune di Modeno all'aeroporto come operaia, questo vuole essere chiaro. Allora io che cosa ho fatto? Come mi sono avvicinato? Innanzitutto abbiamo fatto un inventario perché sembra strano ma raccogliendo poi l'inventario delle cose che già abbiamo esiste tra virgolette una politica di welfare effettiva che va oltre quella che uno poi alla fine dichiara. In aeroporto c'è un orario flessibile per gli amministrativi che possono entrare da una certa ora a una certa altra, quindi questa è una forma in qualche modo di aiuto alla conciliazione dei tempi di vita lavorativa con quelli familiari. Chiunque può chiedere part-time viene normalmente concesso. Esiste una polizia sanitaria integrativa che uno lo dà per scontato ma improvvisamente si trova che quando va da dentista spende meno, va a fare dei check-up per le donne di un certo tipo, per gli uomini di un altro tipo e quindi accede a servizi sanitari gratuitamente o quasi. Esiste la previdenza integrativa che è stabilita tra l'altro dal contratto collettivo e sorprendentemente, essendo comunque attivata su base volontaria, soltanto il 50% della popolazione del nostro aeroporto l'attiva. È un mistero di cui non riesco francamente a capire perché l'azienda è tenuta a dare un proprio contributo aggiuntivo rispetto a quello che darebbe il dipendente, ma il 50% delle persone ancora si illudono che l'IMSI darà una buona pensione e non pensano a fare un risparmio preventivo. Forse è perché effettivamente il peso della spesa, del carrello della spesa, la famosa bandiera di Luxotti che è il carrello della spesa, sta diventando sempre più cruciale. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo testato nuove iniziative per esempio, abbiamo fatto un questionario, abbiamo visto che l'estate, quei famosi tre mesi di abbandono scolastico da parte delle istituzioni scolastiche dei propri figli, era uno dei problemi più importanti, su 360 dipendenti ci sono quasi 200 bambini sotto i 12 anni e quindi abbiamo introdotto un rimborso parziale delle spese sostenute per i campi estivi, una cosa molto piccola che ha avuto un'eclatante risposta di positività. Abbiamo fatto un benchmark con alcune aziende eccellenti e abbiamo soprattutto dato informazione di quello che esiste in azienda, abbiamo dato formazione il seminario a cui mi riferivo all'inizio della mia presentazione, ha visto coinvolti, quindi si ha il professor Treu per il sistema più grande del welfare, la Willis per la parte contributiva economica e le Livili come esempio concreto e abbiamo chiesto per esempio a Prevair, che è la società che gestisce il fondo per la pensione integrativa, di fare un incontro con i nostri dipendenti di sensibilizzazione per fargli capire i vantaggi. Tutto questo per dire che sicuramente è il momento giusto per pensarci, ci sono meno risorse e qualche opportunità fiscale è ancora da utilizzare. Ogni realtà ha le sue regole, come abbiamo detto all'inizio e come ci ha insegnato Mintzburg, devo dire che bisogna essere molto legati alla propria esperienza, ma sicuramente credo che nessuna funzione risorse umane, personale, sviluppo persone, se non ha altro da fare, che sono problemi gravi, dire che non c'è meglio che tentare di far vivere con maggior positività il contratto psicologico che motiva le persone ad andare in ufficio tutti i giorni. Grazie.